Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno, mini video per darvi dei consigli utili su quello che io ho postato. C'è tanta carne sul fuoco, lo so ragazzi, però purtroppo sono tutte previsioni buone, poi c'è quella che va in porta e quella no. Ma per chi è confuso, io a molti ho consigliato stamattina e ieri che cosa reputo molto più forte, lo vorrei fare pubblicamente in modo tale che se facciamo una vincita la facciamo in massa. Io credo molto alle vincite in massa, quello che molti non credono, per me ci sono. Io ho un ultimo minuto in corso da 3-4 colpi, mi sembra il terzo colpo stasera, con 90 Bari. Sono stato il primo che ho dato il 90 Bari sabato sera, stasera il terzo colpo. L'estrazione di ieri e l'estrazione di sabato mi hanno riconfermato il 90, perché è uscito a Bari due volte di fila l'88 e la seconda volta che è uscito l'88, martedì sera, è uscito con l'89. Il 90 è imminente sulla ruota di Bari, ho visto che adesso altri lottologi stanno dando il 90. L'importante, io dico, i numeri sono 90 e i numeri sono di tutti. Dobbiamo vincere l'ambo secco. Certo, se ci dà lambetto non ci possiamo lamentare, ma io mi auguro nel lambo secco. Cosa vi volevo dire? Un grande consiglio per chi sta giocando il 90 Bari delle mie previsioni. Io ho quattro abbinamenti al 90 e ve li ricordo, ne ho modificato uno. 90 e 12, 90 e 61, 90 e 67 e 90 e 72. I due ambi più forti di questi qui sono 90 e 12, che me l'hanno strasco piazzato, e 90 e 72, 12 e 72 che fanno parte della terzina simmetrica. Occhio al 90 e 12 e occhio al 90 e 72. Ragazzi, occhio, sono due ambi a Bari fortissimissimissimi, ambo e ambetto, mi raccomando. Occhio anche al mio ambo di Napoli, 1 e 35, a colpo è uscito il 35 in terza posizione, non importa. Rigiocatelo, 1 e 35, perché l'1 a Napoli è straforte. E se esce l'1 a Napoli può essere che ci dà o l'ambo secco col 35 o in ambetto, ok? Questo è un grande consiglio prezioso che vi ho dato, eh? Incrociamo le dita per stasera e mi raccomando, mi sento un po' zeleschi oggi, eh? Me l'ha detto in tanti, con la barba, con la maglietta verde, sento un po' zeleschi. Oddio, non è che mi fa molto piacere sta cosa qua, eh? Va bene ragazzi, vi abbraccio, incrociamo le dita per stasera e in bocca al lupo tutto. A tutti, crepi!